Siamo arrivati alla quinta edizione del quinto Slalom Madonna della Neve che fa parte di un trofeo interregionale Abruzzo Marche su sette appuntamenti. Questo è il sesto e il quarto del Terramano degli appuntamenti quindi l'ultimo verrà chiuso il 6 d'ottobre nella regione Marche a Cento Buchi come Formula Challenger. Tecnicamente è un tipo di gara di abilità Slalom perché essendo limitate le velocità a 80 km orari bisogna aggirare dei brilli lungo il percorso e non abbatterli perché creano penalità. Vince chi fa il miglior tempo ad arrivare sopra dal Lido al paese partiremo sul mare e quindi arriveremo al borgo soprastorico. Parteciperanno al momento attuale gli iscritti che si uscirà questa sera siamo arrivati a 55 iscritti. Avremo tre equipaggi femminili quindi sarà una premiazione del miglior piazzamento delle femminili e avremo anche una premiazione con un memorial Enzo Carlini che purtroppo è il nostro collaboratore che è venuto a mancare che premieranno il miglior piazzamento degli Under 23. Ringrazio tantissimo l'amministrazione per averci dato la possibilità di continuare questo trofeo e speriamo di ampliare con una titolazione nel prossimo anno. È un evento che abbiamo abbracciato a pieno, la nostra amministrazione ha patrocinato e si è data da fare affinché l'evento potesse svolgersi e possa essere un fiore all'occhiello per la nostra amministrazione. Noi sin dall'inizio abbiamo sposato questa causa, lo sport, io sono il referente e abbiamo organizzato tanti tantissimi eventi di sport e siamo ben favorevoli a dare il massimo del nostro contributo. Poi questa è una gara che vedrà proprio il percorso da Lido salire al borgo a Tortoreto Alto passando per la via Enzo Ferrari un tracciato dove possono apprezzare anche i concorrenti, gli addetti ai lavori tutte le bellezze del nostro territorio dal bellissimo mare la nostra costa fino ad arrivare a vedere il borgo qui dall'alto. È un evento che ci caratterizzerà molto perché sarà un fiore all'occhiello come dicevo anche per i turisti e per tutti coloro appassionati che verranno a vederlo.